Belen e Iannone ancora innamorati, l'ultimo indizio svela la verità Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno ancora insieme, crisi superata, l'ultima prova In queste settimane non si è fatto altro che parlare di Belen e Iannone La coppia è finita nuovamente al centro dell'attenzione per una presunta crisi, che lì vedeva anche pronti a lasciarsi definitivamente In ogni caso, tali rumors sembrano risultare del tutto infondati I due sono ancora innamorati, anche se come tutti hanno i loro momenti no? Nel corso delle ultime ore, un particolare indizio social dimostra come la Rodriguez e Andrea stiano superando la crisi nel migliore dei modi La sciogero si vociferava avesse preso le distanze dal motociclista perché non convinta di andare a convivere insieme a lui In ogni caso, il campione di MotoGP pare aver capito le ragioni della sua amata e non ha potuto far altro che accettarle e continuare ad andare avanti con la loro bellissima storia d'amore Belen e Iannone, amore a gonfie vele, il video che svela la verità Nonostante i diretti interessati non abbiano voluto proferire parola riguardo alle voci che li vedevano pronti a lasciarsi, sui social di una persona a loro molto vicina è apparso un particolare video A quanto pare, la coppia non è più così distante Belen e Iannone hanno trascorso una piacevole serata in famiglia L'Argentina ha infatti trascorso del tempo con i suoi cari e al suo fianco c'era proprio Andrea I due non sono apparsi in video insieme, ma si sono mostrati entrambi sorridenti e sereni Le cose, perciò, stanno tornando alla normalità Belen e Andrea Iannone non si sono lasciati, serata insieme con la famiglia Rodriguez Insomma, tutto è bene quel che finisce bene Per il momento, Belen resta ancora insieme ad Andrea Nessun ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino In tutto ciò, l'Argentina si è vista anche a dare il benvenuto a Ignazio Moser, nuovo fidanzato della sua sorellina Cecilia A quanto pare, la showgirl ha accolto a braccia aperte l'ex ciclista, così come ha fatto il resto della sua famiglia Grazie a tutti! Grazie a tutti.